scopre che la segretezza dei convogli è fondamentale mentre Rommel lasciamo perdere allora tra l'altro sempre Bastico a proposito dell'affondamento del convoglio formato dalle motonavi Neptunia e Oceania avvenuto la notte tra il 17 e 18 settembre 41 praticamente davanti a Tripoli dice che quando un convoglio è in arrivo tutti i mezzi protettivi navali e aerei devono essere in movimento dalle prime luci dell'alba fino all'entrata del convoglio in porto solo così si sventano le insidie la fonte è fucilate gli ammiragli di Gianni Oliva capitolo 12 enigma e ultra allora 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 a parte il fatto che il convoglio della Neptunia e Oceania fu silurato di notte Bastico era andato molto vicino al vero l'intercettazione dei messaggi l'intercettazione del traffico radio dei nostri convogli naturalmente Bastico ce lo dice anche Erzo Gluca Bastico non poteva sapere di ultra e della decifrazione in tempo reale di enigma che stava avvenendo in quel periodo a Bletchley Park sotto la guida del grande matematico Alan Turing Bastico non poteva sapere di ultra ma sospettava che gli inglesi tenessero sotto controllo le trasmissioni radio dei convogli temeva che gli inglesi intercettassero le nostre trasmissioni e in un qualche modo riuscissero a utilizzarle per triangolare il bersaglio e quindi farlo affondare prima dell'arrivo insomma signori il generale Bastico allora Ettore Bastico passa per essere come dire passa per essere un personaggio grigio anonimo un pallido contraltare del brillantissimo del geniale del fenomenale Erwin Rommel ma qui si scopre che Bastico pur se mancava del carisma dell'opportunismo della figura fascinosa del suo teoricamente subordinato fel maresciallo tedesco Bastico in realtà aveva l'occhio molto più lungo di quello che sembrava non sarà stato un generale brillante sicuramente non era il più brillante dei generali anzi ma Bastico aveva una caratteristica conosceva bene il suo mestiere conosceva bene il valore della logistica conosceva bene il valore della segretezza e fin dal 1941 persino una non cima mi si passi il termine come Bastico si era reso conto che la segretezza delle informazioni era fondamentale fin dal 1941 Bastico temeva che le comunicazioni dei convogli potessero essere intercettate ripeto non poteva sapere di ultra che ultra sappiamo bene era il segreto più segreto e più protetto di tutto l'arsenale alleato ma ma Bastico qualche cosa aveva intuito Rommel no perché Rommel continuava a sbandierare in lungo e largo con i suoi messaggi radio reclamando l'arrivo dei rifornimenti tramite convogli cioè ci sono le testimonianze cioè ci sono i documenti che Rommel spesso e volentieri tempestava Roma quando arriva il convoglio quando arriva il convoglio quando arriva il convoglio quando arriva il convoglio al che Roma si scocciava e diceva a Marescia a Erwin a Vorpe arrivano te l'avevamo spedito ieri col risultato che gli inglesi decifravano i messaggi di Enigma avevano le informazioni belle fresche piazzate